Qui c'è di tutto, guarda, Triglia la Livornese, le Prinze al Mico, mi piace a me. Vogliamo sederci? L'è venuta a fare anche a me. Io ciò dicelo, voi non lo so. Ameriere! Cosa posso servire? Ameriere, le informo che siamo arrivati prima noi. Va bene. Cosa volete? Beh, io veramente sono un po' indisposto di stomaco, vorrei tenermi leggero. Mi contento di una ventina di Triglia la Livornese col pomodoro e quella lepre in salmì e qualche porzione di Trippa la parmigiana. Io sono a dieta, mangerò solo un po' di lepre forte e dolce con contorno di pollastre e galletti di primo canto, sì. E poi un paio di spiedini di pernici, starne e conigli, grazie. Vino niente. Come niente? È il migliore della sua cantina. Eh sì, il migliore. Va bene. È lontano da qui? Che cosa? Ah, il campo dei miracoli. Due passi. Allora andiamoci. Voglio proprio vederlo. Non ci credo ma però... Basta che facciamo presto. Prima ceniamo. Tanto al campo si raccoglie all'alba. Mangiamo tranquilli e poi quando siamo belli riposati... Ma perché non vieni a mangiare qui al nostro tavolo? Vieni. Fagli posto, dai. Cameriere, è un coperto per il signore. Cameriere! Dì grazie.